Registrazione video 1080p con stabilizzatore ottico di HTC One A9 Si nota abbastanza che quando mi muovo l'immagine ha sempre un attimo prima di fermarsi ma poi rimane immobile Cambio di luce e soprattutto di messa a fuoco Un attimo di pazienza Ho fatto il tap to focus Di nuovo all'infinito, altro tap to focus Premo il volume per fare lo zoom digitale che sembra un po' meno di un 4x, non c'è un'indicazione precisa Torno indietro, rapido movimento, registrazione video 1080p HTC One A9